Direttore, con lei è iniziato un nuovo corso per la Galleria Nazionale delle Marche, abbiamo già visto una serie web che racconta queste meraviglie che sta andando piuttosto bene. Sì, siamo molto contenti delle nostre iniziative social, siamo molto soddisfatti di questo nuovo corso della comunicazione, un corso che sta riscontrando successo, merito anche dell'alta qualità dei prodotti che stiamo facendo uscire sui nostri canali. L'idea è quella di raccontare le opere della Galleria con un'ottica nuova, una narrazione nuova e proprio su questa narrazione si incentrerà il lavoro nostro, degli storici dell'arte, degli architetti e di tutte le persone che lavorano nel museo. Abbiamo cominciato naturalmente con la comunicazione video perché ci sembrava il modo migliore per arrivare al maggior numero di persone possibili e invitando naturalmente a partecipare gli amici della Galleria che si trovavano nella regione perché evidentemente siamo chiusi e quindi chi è potuto venire nel comune ha voluto partecipare, siamo molto contenti della risposta. Anche noi stessi nel museo ci siamo investiti in prima persona, i funzionari hanno con piacere mi sembra accettato l'invito e ognuno a modo suo ha raccontato dei dettagli e sta raccontando dei dettagli di questo straordinario museo ospitato all'interno di un edificio che è certamente il più bel palazzo del Rinascimento. Ad oggi i musei sono chiusi quindi con i social si possono aprire al pubblico, ai visitatori e alle amanti dell'arte. Con la rapertura cosa avete pensato? Cosa troveranno i visitatori entrando qua a Palazzo Ducale? Troveranno il loro museo sul quale stiamo continuando a lavorare, il nostro progetto è quello di una riapertura graduale e un ripensamento del percorso museografico. Ci stiamo preparando per aprire nuove sale al secondo piano quindi tutta una nuova sezione del museo che ci auguriamo di completare entro, i lavori dovrebbero essere finiti se tutto va bene all'inizio dell'estate. Quindi normalmente entro l'anno apriremo tutta una sezione nuova del museo con il 5, il 600 e il 700. Un primo bilancio di questi mesi? Straordinari e difficilissimi. Straordinari perché la sfida personale per me di assumere un incarico così importante così prestigioso che è la direzione di questo museo è evidentemente un'emozione grande e anche, dicevo, una grande responsabilità. Difficile perché le contingenze legate alla pandemia rendono tutto molto faticoso e rendono anche incredibilmente difficile il poter stringere rapporti umani per me che arrivo a Urbino da straniero. Direttore, siamo scesi vicino alle grandi cucine in un luogo nascosto e un po' magico. Cosa sta succedendo qua? Beh, sta succedendo che approfittiamo di questo periodo di chiusura per intervenire sui capolavori della nostra collezione. Siamo nel laboratorio di restauro dove le nostre funzionari restauratrici stanno intervenendo su due dipinti importanti della collezione il bellissimo dipinto di Lilli, ad esempio, che verrà dunque pulito, verrà operata un'operazione di pulitura e di ristuccatura per riportarlo alla sua cromia originale.